Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi vorrei parlarvi di Frank Müller. Come tante volte vi ho già raccontato ho rischiato di incontrare Frank Müller a Tokyo. Mi avevano portato in un ristorante del centro, un ristorante italiano ed il proprietario era proprio di qui vicino, di Camaiore, vicino a Lucca, il quale mi disse che da lì a poco sarebbe andato a vedere una gara di Formula 1, una corsa di Formula 1 a Monaco con Frank Müller. Naturalmente lui non sapeva che io mi occupavo di orologi e mi fece vedere il suo orologio che appunto era un Frank Müller. Tra l'altro era bellissimo, era tutto colorato. A quel punto gli dissi se lo potevo incontrare ma purtroppo avevo ancora a disposizione pochi giorni e non non riuscì insomma ad organizzare un incontro però mi promise che la volta successiva che sarei stato a Tokyo avrebbe organizzato un incontro con Frank Müller. Poi purtroppo questo ristoratore è andato a finire, è andato a New York, ha messo su un altro un altro ristorante o un ancora un altro ristorante e per cui è sfumata questa possibilità. Io spero che Frank Müller guardi insomma questo questo video e magari ci possiamo anche concertare per un incontro la prossima volta che vado a Tokyo. Frank Müller parla benissimo tra l'altro l'italiano perché la mamma è proprio italiana. Nasce nel 1958 e all'inizio studia a Ginevra orologeria e diventa subito famoso per lavorare sulle grandi complicazioni in particolar modo sui Patek Philippe. Considerate che da giovanissimo realizza sulla base di un Rolex Datejust, utilizzando la cassa di un Rolex Datejust, realizza un orologio con calendario perpetuo. Nel 1983 realizza il suo primo orologio per cui non ha neanche 30 anni e già ha realizzato un orologio con il tourbillon. Questo fa sì che gli danno un nome Master of Complications. Per cui considerate che già da giovanissimo Frank Müller veramente diventa una persona molto famosa. Io non so se è dovuto al fatto che lui comunque era giovanissimo. Oppure al design proprio di questi orologi che era così diverso, diverso insomma da quelli che erano gli orologi che in quel momento lì andavano di moda. Erano quadranti molto allegri con colori vivaci. Fatto sta che entra nel mondo del jet set delle star. Viene visto Schwarzenegger, Elton Jones, il verse stallone, Gianni Versace compra 20 pezzi in una in una volta soltanto di Frank Müller. Ecco negli anni 90 diventa assolutamente il primo orologio indipendente ad avere un successo, un successo enorme. Addirittura mi ricordo che veniva inserito proprio anche nelle nelle canzoni dei dei rapper come come simbolo proprio della di una certa agiatezza. Anche nei primi anni 2000 continua proprio la il successo di questa di questa Maison. In qualche modo è stato un precursore, un precursore di Roger Dubuis, F. P. Journe, Richard Miller. Questi che sono gli orologi che oggi stanno avendo un certo successo come come indipendenti. Ebbene Frank Müller è stato assolutamente il il primo. Quali sono le caratteristiche dei Frank Müller? Innanzitutto l'utilizzo di materiali preziosi. Normalmente viene utilizzato l'oro, l'oro rosa. Poi ci sono pochissimi numeri. I Frank Müller si possono trovare veramente, è veramente anche difficile trovarli perché sono prodotti in numeri molto limitati. E poi ci sono le complicazioni. Qui possiamo trovare veramente di tutto. Calendari perpetui, ripetizioni minuti. Addirittura c'è una complicazione che lui chiama Crazy Hours, che a me mi piace, è un casino, e è praticamente con le ore saltanti. Ci sono i numeri che invece di essere uno, due, cioè sono sparsi, sono il numero sparsi e la lancetta delle ore fa salti così, no? Veramente una complicazione molto appariscente, molto particolare. Ecco, ci sono poi i quadranti. I quadranti sono realizzati a mano, hanno questi colori vivaci, sono veramente rifiniti in una maniera maniacale. Ecco, ci sono anche naturalmente delle critiche. Le critiche più pesanti riguardano il fatto che gli orologi base, quelli entry level, che comunque si aggirano intorno a 10.000 euro, per quelli entry level, hanno delle basi ETA. Naturalmente tanti storgono il naso, dicono che per 10.000 euro possono trovare delle alternative e questo è sicuramente, e questo è sicuramente vero. Naturalmente con 10.000 euro si possono comprare, per esempio, dei Rolex che hanno dei calibri, dei calibri propri, ma naturalmente i Rolex sono fatti in numeri molto alti. Tra tutto Rolex produce un milione di pezzi. Qua invece siamo in un numero veramente limitato, in una produzione veramente limitata. Per cui io ritengo che anche l'utilizzo di una base ETA, poi naturalmente questi calibri sono anche rifiniti, non è che c'è l'ETA base che troviamo su tutti gli orologi. Secondo me, cioè su tutti gli orologi che utilizzano movimenti di fornitura, secondo me può avere anche un senso. D'altra parte Frank Müller è il Master of Complications, per cui diciamo che il cliente tipo di Frank Müller è un cliente che più che altro ricerca l'alta orologeria. Oggigiorno Frank Müller non fa più parte di Frank Müller, ovvero Frank Müller vive, come vi ho detto io, a Tokyo e non non lavora più. Probabilmente non ha neanche bisogno di lavorare, intendiamoci bene, perché comunque ha avuto un successo enorme per più di un decennio e poi sicuramente sarà stato liquidato per quella che è un'azienda, che è un brand ormai famosissimo. Certo dispiace, certo dispiace che un orologiaio di questo livello, un orologiaio con questo che è partito poi oltretutto così giovane. Ecco noi non sappiamo quanto potrebbe ancora dare al mondo dell'orologeria un tipo del genere. Sarebbe bello poterlo intervistare, io non dico magari anche utilizzando Skype, sarebbe comunque una cosa molto molto bella, comunque un sogno. Poi naturalmente io lancio insomma questa, lancio questa richiesta, poi naturalmente se verrà, ecco se verrà colta io sarò molto molto felice di poterlo, di poterlo intervistare insomma ecco su questo, su questo canale. Ok, io a questo punto penso di avervi detto detto tutto, almeno a livello così generale di Frank Müller, poi nelle prossime puntate vedremo magari dei modelli particolari di Frank Müller, intanto vi invito insomma anche a vedere quello che è il suo sito, ci sono veramente tanti colori, anche la forma proprio dei numeri è così particolare ed è anche molto molto copiata, anche molti anche molti omaggi, chiamiamoli così, di Frank Müller. In un momento, gli anni 90, dove non è che ci fosse tantissima innovazione, anche da un punto di vista proprio della del design. Per cui insomma ecco, Frank Müller è un veramente un'azienda molto molto interessante. Io a questo punto vi saluto, vi invito insomma a mettere un like a questo video se vi è piaciuto, se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!